Girelle fredde, un classico estivo che mette sempre tutti d'accordo. Prepariamole insieme. Schiaccia il pane per tramezzini con un matterello. Fai uno strato con il formaggio spalmabile, aggiungi il prosciutto cotto o in alternativa del salmone affumicato. Aggiungi la rucola ed arrotola ben stretto ma delicatamente. Abbolgi nella pellicola e fai riposare in frigo mezz'ora prima di tagliare a fette e servire.